Una delle vetture più attese qui alla Salone di Parigi è sicuramente questa BMW Z4, le vetture scoperte BMW sono delle icone per gli amanti delle roster, il raccominciare della BMW 507, capolavoro di Albert Frank Goetz, presentata al Waldorf Astoria di New York nel 1955. Sono passati tanti anni e qui invece al Salone di Parigi 2018 arriva la nuova Z4, si apre un nuovo capitolo per la roadster BMW, però la filosofia rimane quella, auto che esprimono grande performance ma allo stesso tempo stile, lusso e raffinatezza. Il muso è filante, tra l'altro proprio questo concetto di calandra a doppio rene, così sviluppato in larghezza, che era stato interpretato per la prima volta sulla 507 proprio da Frank Goetz, quindi le linee, le proporzioni rimangono tipiche delle roadster BMW. Questa versione della Z4 si è allungata, misura 4,3 metri, tra l'altro rimane la capote in tessuto azionata elettricamente e questa presenta il nuovo sistema operativo 7.0 BMW, quindi con strumentazione digitale, pannello di controllo personalizzabile, quindi chi guida al centro di tutto. Per quanto riguarda le motorizzazioni, 4 e 6 cilindri, 6 cilindri in linea, la versione più potente è presente sulla Z4 M Performance 40i, che ha questo 6 cilindri in linea da 360 cavalli.